Quali sono i temi più scottanti per la città di Vicenza? Attraverso un sondaggio abbiamo verificato quali sono i temi più scottanti per la città di Vicenza ed è emerso come al primo posto ci sia il degrado, al secondo posto ci sia il tema del lavoro e al terzo ci sia ancora il tema BVV. Su questo abbiamo trovato anche che le nostre idee coincidevano con molte delle risposte in particolare per quanto riguarda il tema degrado, riteniamo che un cambio forte dell'illuminazione passando a un'illuminazione a led con la videosorveglianza in molti angoli integrata e gestita in modo intelligente insieme alla diffusione degli eventi nei quartieri di periferia sia una delle soluzioni a questo tema. Per quanto riguarda il lavoro pensiamo a una sorta di ufficio di collocamento comunale che interagendo con regione e provincia aiuti a profilare i giovani, aiuti a dare delle indicazioni della loro formazione, aiuti a rompere il ghiaccio per il primo impiego. Per quanto riguarda la BPV, parafrasando un altro celebre ufficio, abbiamo l'idea di avere una sorta di ufficio danni BPV che si affianchi al sindaco nella discussione con le associazioni, con gli enti, nel stare sempre a fianco dei risparmiatori traditi e nella capacità anche di dare suggerimenti che servono a chi ne avesse bisogno. In questo contesto, in quanto azionista, riteniamo che il Comune politicamente dovrebbe schierarsi anche come parte civile nel processo contro la Banca Popolare.